Credo che la convention di oggi come tanti altri supporti che abbiamo avuto in questi mesi continuiamo ad avere ogni mattina anche ad esempio con il programma Good Morning Mediolanum o in realtà comunque con queste giornate in presenza ci danno sicuramente una grande forza che riusciamo a riportare al cliente e inevitabilmente anche solo il fatto di non sentirsi da soli comunque ad affrontare tutta questa situazione ti aiuta a riportare positività e a riportare la forza che serve in questo momento per cercare di viverlo al meglio e di andare avanti diciamo sicuramente è fondamentale perché ti ritrovi a parlare con persone che comunque sono nella tua situazione quindi ti confronti su come affrontare al meglio le difficoltà, come rassicurare al meglio i clienti come cercare di riportare quello che la nostra azienda cerca di trasmetterci a tutti i nostri clienti per rimanere il punto di riferimento.